Per fortuna che avete vinto Cirio, perché in realtà è un anno dalla tua nomina qui in McCann ed è un anno che insistevamo per vederti, per insomma sentire un po' come andava e giustamente hai detto aspettiamo perché vuoi raccontare un 2014, mi sembra che in fatto di new business ma poi ce lo confermerai è andato più che bene, insomma ragguardevole, forse è uno dei migliori new business? Ma è stato un bel regalo di compleanno quella notizia di Cirio che è arrivata qualche giorno fa perché vincere una gara per un marchio così importante è una cosa bella per noi e poi in realtà sì è stato un anno dove abbiamo preferito essere meno presenti sui media perché in realtà è stato un anno molto complesso in termini di lavoro, in termini di fatica, proprio di quotidianità di lavoro e quindi abbiamo preferito concentrarci sulle cose che... Proviamo a fare una carellata però di quello che è successo che non è poco. Sì, ma e dunque noi siamo, abbiamo cominciato l'anno scorso quindi a febbraio con Alessandro Sabini che è il mio territorio creativo esecutivo e che lui tra l'altro è arrivato qualche mese dopo quindi in realtà considerando anche l'arrivo di Giovanni Nanzarotti che è il nostro planner abbiamo cominciato poi a lavorare insieme tutti in aprile ed è stato dicevo un anno molto complesso, molto ricco di cose perché innanzitutto McCann meritava un grande rispetto dell'approccio. Quindi dovevamo innanzitutto arrivare consapevoli di essere dentro una delle più grandi agenzie del mondo, una che è stata per 15 anni l'agenzia più importante in Italia, che è stata l'agenzia dell'Emea europea. Insomma bisognava avere un approccio molto responsabilizzato, è quello che abbiamo fatto subito. E poi ci siamo messi a lavorare come siamo abituati a fare, come abbiamo sempre fatto anche delle altre esperienze insieme e quindi con molta energia principalmente sui clienti esistenti quindi cercando di andare a consolidare tutti quei rapporti importanti per McCann ma già presenti. Parlo, non so, posso parlare di clienti internazionali come Nespresso per il quale siamo diventati una delle agenzie più importanti nel roster internazionale quindi ci occupiamo di fare comunicazione per Nespresso che va in tutto il mondo quindi pezzi che non sono solo locali ma che esportiamo. Stessa cosa vale per Coca-Cola per il quale lavoriamo sia come Coca-Cola Italia che come Hub per 23 paesi facendo amplification e quindi andando a distribuire tutti quei messaggi che centralmente sono prodotti. E poi abbiamo ci siamo messi di buzzo buono per fare business, fare new business e candidarci ai clienti nuovi. Insomma il primo che mi viene in mente è MCS Crociere perché tra l'altro anche lì fatte da Hub, no? Internazionale. Diciamo che MSC Crociere è stato il new business più importante di questi anni perché abbiamo portato un hub internazionale in Italia cosa che non accade insomma di solito tutti i grandi clienti internazionali decidono di creare degli hub a Londra piuttosto che a Parigi e invece noi siamo riusciti a spostare un hub da Londra a Milano creando con un team multiculturale per gestire e servire sei paesi. E quindi come dire l'idea di portare un cliente così importante in Italia è stato forse il fiore all'occhiello di questo anno però insomma abbiamo portato Grana Padano che è insomma uno dei più grandi clienti nazionali adesso qui in McCann con il quale stiamo facendo tutta la comunicazione dell'Expo. Abbiamo vinto la gara del sole 24 ore che è altro cliente molto importante insomma abbiamo fatto tante cose importanti e adesso è arrivata questa notizia di Cirio che conferma che insomma il trend che abbiamo messo in piedi è buono. Anche perché appunto anche Cirio è cliente locale quindi voglio dire non internazionale di Trevaso ma quindi McCann che si radica anche nel territorio italiano e ci sono anche altre gare in essere so che non ne vuoi parlare non ce le vuoi dire per scaramanzia forse ma probabilmente insomma che ti vedono anche ottimista. Ma ripeto stiamo lavorando bene abbiamo una bellissima squadra devo dire che poi in McCann World Group e quindi quando parlo di World Group parlo anche di delle altre società che appartengono al gruppo abbiamo creato veramente un bel gruppo di lavoro con dei grandi professionisti e devo dire che i progetti che escono all'agenzia e che presentiamo ai clienti sono progetti importanti quindi alla fine quando hai un bel prodotto è anche più facile vincere le gare. Stiamo un po' insomma discutendo provando andare a vedere quali saranno i modelli d'agenzia per il futuro tu che poi sei all'interno di un gruppo così cosa vedi cioè cosa vogliono oggi i clienti da un'agenzia come McCann la regia l'operatività iniziano da una specializzazione che ne sono dal digital per poi passare ad altro dall'advertising insomma come è cambiato anche il modo di interpretarsi di questi network? Ma è più secondo me va ribaltato cioè è più cosa l'agenzia deve portare i clienti perché credo che il nostro ruolo diventerà sempre più quello di essere noi gli interpreti di quello che è necessario dare ai clienti perché i clienti hanno il loro business da gestire quindi hanno altri pensieri che non la comunicazione. Io credo che noi dobbiamo portare un sistema adesso dico un sistema nuovo dico una banalità però credo che visto che andiamo incontro a una disintermediazione poi il mondo si sta evolvendo in quel in quel modo. Credo che le agenzie debbano diventare poi necessariamente delle costole dei clienti quindi il cliente è come se acquisisse un pezzo di competenze che non ha che è un'agenzia e questa agenzia lavorasse come se fosse un cliente per portare quelle competenze nella comunicazione che l'azienda non ha. Perché? Perché in realtà l'agenzia è un sistema che ormai non deve più guardare dentro di sé ma deve guardare fuori quindi l'agenzia forte di oggi è un'agenzia che riesce a interpretare, a star accanto al cliente e capisca che il cliente in realtà non ha più nulla da vendere perché siamo anche in un momento dove non c'è più nulla da vendere. Le aziende devono stare accanto ai propri consumatori, alle persone offrendosi in modo rilevante aiutandole in questo momento così complicato e le agenzie devono aiutare le aziende a fare questo percorso che non è facile e credo che sia quello. Cioè un'agenzia che guardi fuori da sé, che riesca a coagulare tutte quelle competenze nuove che giorno dopo giorno arrivano e si creano perché nel momento in cui oggi uno ha un team di persone non è detto che quel team il giorno dopo sia ancora il team necessario e questo è il compito dell'agenzia cioè fare avanguardia su il mondo che è cambiato e su quello che sono le necessità delle aziende di oggi. Ecco hai nominato il termine rilevanza, ma oggi è ancora importante la rilevanza anche del nome di un brand agenzia, oggi che magari stiamo assistendo a episodi di agenzie che ieri non esistevano e l'indomani vincono i premi più importanti se vuoi internazionali. Secondo te conta ancora questo la credibilità, la rilevanza, il fatto di esserci da tempo con una certa impronta sul mercato? Ma secondo me è ancora fondamentale proprio perché in questo momento storico stanno nascendo tante piccole realtà, piccole agenzie con magari anche dei buoni professionisti. Però credo che il valore culturale, l'expertise, lo scambio di informazione che arriva anche da un network come può essere il nostro, se penso al nostro payoff che è The Truth Well Told, che è stato scritto quasi cent'anni fa, è qualcosa che è molto corretto ai tempi di oggi dove c'è il mondo social, dove la verità è l'unica cosa che ti salva e che ti permette di stare nel mercato. Quindi devo dire che il rapporto culturale, la capacità che certe grandi agenzie hanno di stare accanto ai brand non è solo muscolare, è la cultura di questo mestiere che naturalmente poi deve essere capace di ricevere tutto il mondo nuovo. E' questo mix poi quello che serve oggi. Non te lo chiedo quantitativamente, però qualitativamente come sarà questo 2015 per Metcann? Per noi sarà un buon anno se riusciremo innanzitutto a fare quei progetti che stiamo portando in essere con i nostri clienti. Quindi ci sono progetti innovativi per i nostri clienti esistenti, c'è tutto il mondo dell'Expo che è un mondo sul quale noi stiamo lavorando in modo attivo per portare valore ai clienti che sono al nostro portfoglio. Mi piacerebbe molto, e questo Alessandro Sabini lo sa perché sta lavorando in modo molto determinato, riuscire a portare anche qualche bel trofeo negli uffici di Metcann, in via Valtellina, che ce ne sono già tanti però avere dei nuovi non sarebbe male. E poi soprattutto continuare a continuare il new business che non vuol dire solo acquisire clienti, ma vuol dire poter lavorare con aziende nuove per dare un contributo forte a tante aziende che meritano di ripartire e che hanno tutte le caratteristiche di poterlo fare perché in Italia ci sono aziende molto importanti che stanno affrontando questo momento difficile come per tutti. E credo che il grande valore di un'agenzia come Metcann sia quella proprio di dare questo supporto, che non è vendere campagne, non è vendere creatività, non è vendere uno spot, ma mettersi a fianco e costruire dei progetti che siano progetti di business rilevanti e che possano dare a queste aziende il successo nel mercato. Grazie.